Stefano Becciolini Classe 1964, blogger, opinionista, influencer Sentiamo quindi il suo approfondimento sulle notizie di oggi Passato quasi un mese dall'inizio della protesta dei JJ, Geletti Gialli, in Francia Protesta che ha portato sabato e domenica scorsa a vere e proprie manifestazioni oceaniche Oramai la Francia era proiettata verso sicuramente un cambio di governo Ci sono state manifestazioni non solo a Parigi ma in tutte le grandi città e piccoli centri Si dice che la Francia abbia perso moltissimo in termini economici I Gile Gialli protestano e protestavano non solo per l'aumento dei carburanti Anzi per l'esattezza la tassa sui carburanti verdi diciamo ecologici Ma e soprattutto sulla povertà che oramai da anni in Francia come in Italia Come in altre parti dell'Europa tranne forse che la ricca Germania Si sta estendendo a macchia dell'opardo Ecco domenica sembrava che oramai i Gile Gialli avessero vinto Avessero battuto il conservatorismo di Macron Macron la settimana scorsa aveva fatto delle dichiarazioni Che non avrebbe mai ceduto alla violenta protesta dei Gile Gialli Poi invece lunedì misteriosamente lunedì sera abbiamo visto e sentito Macron che di fronte ai suoi cittadini ha dichiarato che avrebbe calato le braghe In poche parole avrebbe dato un aumento di salari minimi di 100 euro al mese Partendo da gennaio, detassazioni, aumento delle pensioni E tutto questo lunedì E c'è già iniziata la prima spaccatura tra i Gile Gialli Perché qualcuno gli bastava diciamo le promesse fatte da Macron Ma poi è successo qualcosa di per alcuni prevedibile Per altri come me imprevedibile L'attacco o presunto attacco terroristico L'attacco c'è stato veramente Del terroristico quello bisogna vedere Perché a quanto pare risulta il personaggio che ha ucciso Di cui non voglio neanche nominarlo Ha ucciso 8 persone Era un radicalizzato in carcere Ma alcuni dicono che era anche un ubriacone Quindi era una persona presa per la strada Che aveva fatto questo gesto Ma armato da chi? Non certo dai jihadisti credo Probabilmente armato dalla sua pazzia O da qualche altra mano Fatto sta che martedì sera Le carte si sono capovolte All'improvviso la Francia Ha avuto, anzi Macron Ha avuto quel colpo di fortuna natalizia Che capita a pochi Però è già capitato molte volte Nella storia dei paesi occidentali Che non Che arriva un presunto terrorista Uccide delle persone in un mercatino Mi riferisco a Strasburgo E all'improvviso tutto cambia Tutto cambia Tutto cambia perché? Perché Macron finalmente può dichiarare E può dire al paese Che la protesta dei gile gialli Non è la benvenuta Semplicemente perché adesso c'è pericolo terrorismo C'è pericolo di emulazione Di altri pazzi jihadisti Ora è un vero colpo di fortuna Anche perché in questa maniera Grazie a questa Diciamo questa Questa grazia ricevuta sotto Natale A Macron e al suo governo Gli permette anche di fare il signore Perché innanzitutto All'Europa gli ha già detto Che va bene di sforare circa Di 10 miliardi di euro Per la sua manovra All'Italia no Ma questo non è un ragionamento Che voglio affrontare oggi Ci sono già fiorfiori di economisti politici Che si stanno scontrando Perché Claudio Messora ha fatto un bellissimo editoriale Che ho già pubblicato questa mattina Ok A loro l'ardua L'ardua Impresa Di far conoscere Quali sono le retroscena Di questo volta faccia Per Macron Sì e per noi no Ma anche un imbecille Lo capirebbe Giusto? Anche un imbecille Spero che lo capirebbe Lasciamo perdere Lo 0 Il 2,04 2,4 E a Macron 10 miliardi Quello che L'Europa E Bruxelles Non vuole assolutamente Che la protesta Dei gilet gialli Si espanda In tutta Europa Perché Ricordatevi Che venerdì scorso I gilet gialli Belga Avevano cinto da sedio Il Parlamento Europeo Le telegiornali Hanno dato Una piccola notizia E basta Ma così Senza neanche far vedere Le immagini Quindi Era logico Che Bruxelles Avesse Autorizzato Anzi Autorizzasse Macron A sforare Il debito pubblico Non pigliamoci Per I deretani Non voglio essere volgare Quindi Non stiamo Non stiamo qui A combattere A scrivere post Stupidi Il governo Giallo Verde Si è calato Le braghe Di fronte Qua il vero problema Il vero problema È l'Europa L'Europa E adesso I gilet gialli Cosa faranno I gilet gialli In Francia Sabato Come si comporterà Macron Il governo Il governo Francese Di fronte Ha Un'ennesima Manifestazione E soprattutto Il banco di prova Saranno Lo stesso numero Saranno di meno Saranno di più Ma soprattutto Che cosa accadrà Visto che Macron Ha Aumentato Gli organici Delle forze Polizia Con circa 1.800 2.000 Militari Per l'emergenza Del Natale Perché adesso Si pensa Che ci saranno Altri Altri lupi grigi Che andranno in giro A ammazzare persone Però in questa maniera Hanno preso Due piccioni Con una fava E non dimentichiamo C'è anche una cosa Molto importante Quello che è successo In Francia Non solo Gli scontri Ma Le vere E proprie Diolenze E la vera Repressione Che il governo Francese Ha attuato Verso il suo popolo E Io le definisco Il bastone Quello è stato Il bastone Il bastone Di bastonare Fisicamente E violentemente I propri cittadini La carota E la carota È stata quello Che ha detto Lungedì sera Che gli darà Sicuramente Magari per qualche mese Poi se tornano Gli altri suoi passi E poi lo jihadista O presunto tale Che ha rimesso Ha rimesso a posto Le cose Ha riequilibrato La pericolosa bilancia Che stava andando Verso il populismo Tornando un attimo E poi finisco Alle violenze Che ci sono state In Francia Vi ricordo Che La gendarmeria Francese Tra le altre cose Fa parte anche Della Eurogenfor Che è La polizia Anzi Gendarmeria Europea Vuol dire Polizia militare Vuol dire Esercito Come i carabinieri Infatti di questa Eurogenfor Fa parte L'Italia Con l'arma dei carabinieri La Francia Con la gendarmeria francese Nazionale Il Portogallo Con la guardia nationale La Spagna Con la guardia civile Tristemente nota Negli anni Della guerra di Spagna Della guerra civile Spagnola La Romania Con la gendarmeria romana I Paesi bassi Anche qui Con la loro gendarmeria E la Polonia La Polonia Quindi Questi paesi Sono gli unici paesi In Europa Che hanno ancora Una polizia militare Quindi Hanno creato Anzi Hanno creato Abbiamo noi Creato A Vicenza Nella caserma Chinotto General Chinotto A Vicenza Questa Eurogenfor Adesso Io ho già fatto Se non sbaglio In 4 anni 6 articoli Li potete trovare Non voglio annoiarvi Su cos'è Molti di voi La conosceranno Chi non la conosce Mi fa la grandissima Cortesia Di andare A vedere Che cos'è L'Eurogenfor Ok Va su internet Wikipedia E mette questa chiave Di ricerca Quello che voglio dirvi Che questa Eurogenfor È stata Pianificata Creata E firmata È stato firmato Proprio mandato Per la creazione Nel 2003 È entrata Operativa Tra il 2006 2007 E opera Già in Zone Internazionali Il dato Molto importante E inquietante Che questa Gendarmeria Ha Una impunità Totale Da parte Delle magistrature Dei paesi Che la ospitano Di forza O di piacere Ecco Andate a fare una ricerca Questo perché Perché La domenica scorsa Abbiamo visto I primi blindati Della gendarmeria Gravi Ma Nessuno Ha parlato Delle violenze Della polizia E della gendarmeria Francesa Per petrate Ai danni Dei propri Cittadini Allora Se noi Anzi Se anziché la Francia Fosse stata Come ho già detto Una volta L'Italia Fosse stata L'Ungheria Di Orban Ecco Sarebbero scesi Tutte con le magliette Rosse I famosi Magliettai Rossi Si sarebbero dipinte La faccia di rosso L'ONU Avrebbe Ci avrebbe Dato l'embargo Avrebbero fatto Di tutto Ma non perché Io sono Proleghista O di destra No Io dico che Non bisogna usare Due pesi o due misure L'informazione Vera Non la fa di certo Gli organi di stampa La stiamo facendo noi Io sto cercando Di far capire Adesso anche Con questa trasmissione Che arriverà anche Oltreoceano I nostri connazionali Che si trovano in Florida Che le cose qua Stanno andando Non male Stanno andando malissimo Molto male Ma stanno andando male Non solo politicamente Economicamente Ma Qui C'è lo spauracchio Di una nuova repressione Stiamo La Francia Sta diventando Come il Cile Nel 1973 Dopo L'omicidio Di Pinochet No Pardon Pinochet Quello che ha ucciso Il Salvatore Allianza Che era il presidente Legittimo Cileno Un piccolo lapsus Quindi Ora Io mi auguro Che molti di voi Approfondiranno Queste tematiche Che io Ho brevemente Descritto In questi minuti Ma soprattutto Che si fa la pressione Verso i mass media Affinché Alcune cose Che fanno scomodo All'Europa Vengano dette Questo governo del cambiamento La RAE ha cambiato i vertici Foa Fai qualcosa Noi dobbiamo sapere Non potete dare L'incombenza Alla rete Di fare informazione Voi siete pagati Noi lo facciamo gratis Va bene Allora Questo approfondimento Per oggi è finito Il prossimo Vediamo quando sarà Sicuramente domani Qualcosa dovrà essere detto Scritto O perlomeno Massimo domenica Sulla protesta Su quello che accadrà in Francia E mi auguro Di non dover fare Approfondimenti Di fatti di cronaca Molto peggiori Di quelli che sono accaduti Questa settimana Grazie a tutti E buon weekend Grazie a tutti Grazie a tutti